La sicurezza deve tenere il passo alle prestazioni sempre più elevate ed ecco che i freni diventano l'elemento fondamentale con attenzione all'ambiente. E' quello che è l'ultima evoluzione sono freni green che non fanno polvere e materiale d'attrito anche quello green, quindi questa è la nuova generazione dei prodotti frenanti. Poi i caschi, segno di personalità ma soprattutto di sicurezza. Sicuramente è un elemento per distinguerci, bisogna saper scegliere il giusto casco per il giusto utilizzo, se si usa una moto stradale, una moto in città, ogni casco per il proprio stile di guida e per il proprio mezzo.